Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche generali per la prima parte di ottobre, la temperanza e l'appeso ragazzi, periodo statico direi, la temperanza è una carta di pazienza, è una carta di guarigione, di riequilibrio e l'appeso è anch'essa una carta di staticità dove diciamo che vi consiglia di guardare le cose da un altro punto di vista. È come se ci fosse un momento di riflessione in questi primi 15 giorni di ottobre. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi, io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email, nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene, scusate. Andiamo a vedere di che cosa si tratta per questi primi 15 giorni di ottobre, andiamo a vedere come saranno le energie. Partiamo con un 9 di bastoni ragazzi, 8 di bastoni, 8 di coppe, fante di pentacoli, temperanza nuovamente, 4 di bastoni e il matto. Devo dire che l'inizio ragazzi è un po' faticoso inizio mese con questo 9 di bastoni o arrivate da una fase dove probabilmente vi siete difesi o vi state difendendo o comunque avete diciamo gli occhi bene aperti per quello che riguarda il vostro giro sociale. È una carta 9 di bastoni che indica anche una certa stanchezza, probabilmente è per quello che qui avete queste due carte, è come se vi dicessero di prendervi un momento. Vi dirò, ho come la sensazione che potrebbero arrivare delle notizie inaspettate potrebbero riguardare ragazzi, per qualcuno ovviamente, dei figli, ok? Mentre con quest'8 di scusate, con quest'8 di coppe ho come la sensazione che abbiate voglia di lasciarvi qualche cosa indietro e potrebbe tranquillamente essere la stanchezza di cui ci parla il 9 di bastoni. Ripartiamo dall'inizio, andiamo a vedere carta per carta con i mini tarocchi così vi do qualche informazione in più. Allora, partiamo con il 9 di bastoni, abbiamo un 8 di pentacoli e un 9 di bastoni, quindi è una stanchezza che potrebbe essere dovuta a un'intensa attività lavorativa piuttosto che dovuto magari a faccende quotidiane che riguardano il quotidiano. Penso al fatto, visto che prima vi ho detto che potrebbe essere relazionato con un figlio, penso al fatto che magari a settembre siano iniziate le scuole, quindi è una nuova routine, un nuovo tran tran, per cui è come se ci fosse bisogno di ricaricare un po' le pile, appunto. Andiamo a vedere l'8 di bastoni, ok? Abbiamo un 9 di pentacoli e la sacerdotessa. Allora, ragazzi, se siete senza lavoro, vi dico che all'inizio di ottobre potrebbe arrivare qualche notizia inerente ad un lavoro. Per molte persone potrebbe essere un lavoro di tipo autonomo, per altre persone è un lavoro di tipo dipendente con autonomia, quindi con, diciamo, capacità decisionale, piuttosto che non nego che potrebbe essere un aumento di livello. Andiamo a vedere l'8 di coppe. Abbiamo un 2 di bastoni e un fante di coppe. Vi dirò, vedendo anche la sacerdotessa qui, ho come la sensazione che all'inizio del mese arriverà qualche idea geniale, qualche illuminazione, qualche canalizzazione, considerato che abbiamo la sacerdotessa. Per cui ho come l'idea che inizierete a programmare un... o un progetto, o un viaggio, o un qualche tipo di situazione. Ho come questa sensazione che da quando riceverete questa notizia, di conseguenza è come se vi sentiste di più nel vostro potere personale, perché sarà una bella notizia. Ci sarà come questo inizio di progettazione per un vostro punto d'arrivo, mi verrebbe da dire. ragazzi, per qualcuno potrebbe trattarsi di... diciamo di un aiuto in denaro, una donazione, un lascito. Andiamo a vedere il fante di denari al contrario, abbiamo la regina di denari, otto di coppe nuovamente e quattro di coppe. Sì, ripeto, è come se qualcuno qui iniziasse a pensare a come sviluppare un certo tipo di progetto. c'è una regina di denari, in effetti, quindi ho l'idea che sia necessario programmare bene le spese, organizzare bene quello che sono le questioni quotidiane, quelle di cui parlavamo all'inizio, insomma. ed è molto importante, ragazzi, è per quello che qui avete anche la carta dell'appeso, secondo me, che valutiate tutte le opzioni, diciamo, del caso, perché qui con questo quattro di coppe al contrario, io ho come la sensazione che non riusciate a vedere tutto in modo obiettivo di questa situazione o di questa relazione. Vi ricordo che questa è una lettura generale, ognuno di voi la applichi alla propria realtà. Ho anche la sensazione, ragazzi, che abbiate bisogno di muovervi in questo senso, in questa direzione, per acquisire fiducia in voi stessi, fondamentalmente, perché ho come l'idea che non vi sentiate abbastanza. Probabilmente perché appunto arrivate da questo periodo un po' di stanchezza, e quindi è come se dicesse no, ma ancora, basta. E invece non vi preoccupate, prendete le cose un giorno alla volta, man mano che si presentano, senza pensare troppo al futuro, senza creare troppe preoccupazioni. Quando si presenta il problema, pensate a come risolverlo. Tanto pensarlo prima non serve. Andiamo a vedere la temperanza. Allora, qui può esserci una rottura di un contratto con la giustizia al contrario. Può anche essere la rottura di un accordo, perché anche questo quattro di bastoni è al contrario. E' come se con questi due otto di coppe qualcuno stesse pensando di andarsene. Potrebbe essere un viaggio breve, o potrebbe essere proprio un trasferimento, ma sento un po' di preoccupazione per quello che riguarda il come farò a fare questa cosa qui, come farò ad andarmene, come farò a gestire tutto da solo o da sola. Può anche essere il trasferimento in un'altra filiale, se per esempio per voi vibrasse come una stesa di lavoro. Però vi dirò che comunque a metà ottobre è come se ci fossero dei cambi a livello contrattuale. Con la giustizia al contrario è facile che ci siano proprio dei tagli, delle rotture. Andiamo a vedere il quadro di bastoni. Amanti al contrario. Sette di coppe, asso di denari e la luna. Ragazzi, io credo che questo cambio di contratto, questo cambio della quotidianità, possiamo anche dire, vi destabilizzeranno un poco. Da un lato era quello che volevate, però dall'altro come la sensazione è che quando questa cosa arriverà siate un po' appunto destabilizzati, potrebbero venire a galla delle paure. Sono due carte di proiezioni questi, quindi è un po' come se non fosse come ve lo eravate immaginato. Per molte persone, ragazzi, può avere a che fare con una relazione di coppia, perché qui ho veramente tante tante carte. Abbiamo gli amanti, il 4 di bastoni, il 2 di coppe, quindi per qualcuno potrebbe rappresentare una sorta di instabilità o di rottura degli equilibri della coppia, o vi dirò, addirittura è una rottura dell'accordo. Avere gli amanti al contrario vi dice che avete bisogno di lavorare sul vostro amor proprio. Questo periodo di fermo di cui ci parlano la temperanza e l'appeso credo che vi servirà proprio per rivalutare voi stessi tutto il potere personale che in realtà avete e che non siete consapevoli di avere. Andiamo a vedere il matto. Se per esempio fosse una questione lavorativa, come vi dicevo prima, qui potrebbe esserci nella seconda parte della lettura qualche cambio nei contratti, nelle collaborazioni, nella stabilità della relazione lavorativa. Allora, abbiamo un 3 di pentacoli al contrario, 9 di coppe e remita. Ragazzi, qui fondamentalmente vi invitano ad andare avanti da soli, a trovare il vostro appagamento da soli, trovare la vostra verità con la carta dell'eremita. È un invito a sperimentarvi, è un invito ad andare oltre, è un invito a sfidarvi, a capire di che pasta siete fatti, senza stare troppo lì a pensare a cosa potrebbe andar male. Ho come la sensazione che vi dicono, andate avanti da soli, perché sia il 3 di pentacoli al contrario che la carta dell'eremita sono due carte che vi dicono appunto di lavorare da soli. E il matto, ragazzi, comunque vi consiglia di buttarvi verso il nuovo, di vivere nuove avventure. Sento che è un po' una lettura che vi dice sfidatevi, non fatevi spaventare da problemi che non ci sono ancora. Tenete presente che comunque saranno 15 giorni di calma, di riflessione, di guarigione, anche perché siete stanchi, avete bisogno di recuperare le forze, avete bisogno di capire come gestire la vostra quotidianità. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Comprensione e coscienza Allora, come vi dicevo, si tratta di capire. Allora, se ci fate caso in questa figura, l'uccellino è seduto sulla gabbia e sta guardando tutti gli altri volare liberi, perché vorrebbe farlo anche lui. Vorrebbe andare per la sua strada, volare libero. Cosa succede, ragazzi? La gabbia è aperta. Basterebbe che spiccasse il volo. Quindi è comprendere che si è liberi, che effettivamente basta spiccare il volo. E questa carta qui è la carta del carro, ragazzi. Ed è un po' come se vi dicesse di ascoltare quello che c'è dentro di voi, dentro la vostra coscienza, ok? Magari attraverso anche la meditazione. Mi fa sorridere perché qui la temperanza è proprio in forma di seduta, diciamo in forma di meditazione. È un po' come se vi dicessero, ascoltate la vostra coscienza. E qui avete anche l'eremita. È proprio quella carta che vi dice di prendere un cammino solitario per studiarvi, per capire qual è la vostra luce, qual è la vostra verità, che cosa è valido per voi, cosa rende felice voi. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Moderazione. Allora, c'è qualche cosa che non dovresti mangiare? Cerca di assumerlo in modo, diciamo, sapiente. Anche perché le fate dicono che una piccola quantità non può far male. Quindi se c'è qualche cibo, qualche alimento, qualche cosa che state introducendo e che, insomma, non è il massimo per la vostra salute, sapete che non dovreste mangiarlo, magari toglietevi lo sfizio, ma non esagerate con la quantità e con la moderazione qui è molto importante. Bene, amici del Leone, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, un commento, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere, lasciare una donazione o abbonarvi al canale. Se non riuscite ad abbonarvi al canale dalla schermata principale, potete entrare in un video, i video degli abbonati sono quelli che hanno la copertina viola, e provate ad abbonarvi da lì dentro. Nella sezione degli abbonamenti, ragazzi, tratto temi di metafisica. Diciamo che è un po' una scuola per capire come muovere l'energia. Mentre il percorso individuale che sto proponendo è cucito sulla persona ed è un percorso che va a lavorare sulle credenze limitanti. Bene, detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!